Sabato 16 aprile 2022, ben ritrovati a tutti voi per questo nuovo video, ragazzi. Partiamo subito con la nostra sigla. Bene, bene, ben ritrovati, ragazzi. Partiamo immediatamente. Veloci, veloci, veloci. Andiamo a vedere che ci trovate su YouTube come Forza Lazio, mentre su Facebook, Instagram, TikTok e Twitter ci trovate con il nome Canale Forza Lazio. Vi ricordo anche che abbiamo aperto da poco il nostro sito internet, eccolo qui, www.canaleforzalazio.com l'email per contattarci o per avere informazioni di qualunque genere è canaleforzalazio.gmail.com Cosa importante, vi ricordo che per la raccolta, trasferta, per il ritiro di Auronzo di Cadore dove io e Fabrizietto vorremmo andare col vostro supporto, perché da soli non ci si riesce, trovate il link PayPal in descrizione. Oltre a questo trovate anche il link per i merchandise, per acquistare appunto tutto il materiale con la nostra guida stilizzati. Trovate anche il link per abbonarvi ad appena 1,99 euro al nostro canale per fare acquisti su Amazon. Insomma, c'è tanto, tanto, tanto. Grazie. Come ti consueto, dico sempre anche ai nostri amici sponsor, che adesso vedete insomma in pressione, la palazzina dell'amico Franco e il centro cinofilo fratello Lupo di Daniela. Ma torniamo a noi ragazzi, perché adesso è il momento di andare a vedere che tipo di partita ci può aspettare questa sera. Vi ricordo, tra l'altro, ore 20 e 30, via la nostra live sul nostro canale YouTube, per vedere insieme la partita e commentarla insieme tra di noi, pre, durante e post partita. Quindi mi raccomando, vi aspetto. Andiamo un po' a vedere che tipo di partita ci aspetta, ragazzi, allo Stadio Olimpico, nel match di questa sera, che io temo moltissimo per aspetti tattici, che ora vi spiegherò contro il Torino. Bene, andiamo a dare un'occhiata a quella che dovrebbe essere la formazione che questa sera scenderà in campo allo Stadio Olimpico. Ok ragazzi? Andiamo quindi a vederla insieme. La Lazio scende con Stagoscia tra i pali, quartetto difensivo composto da sinistra a destra da Marusic, Acerbi, Patrick e Lazzari. A centrocampo, come possiamo vedere, il solito terzetto con Leiva, Luiz Alberto a sinistra e Milinkic alla sua destra. In attacco Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson. Questa è appunto la formazione della Lazio. Mentre andiamo subito a vedere come risponde il Torino. con Beriscia tra i pali, Izzo, Bremer e Rodriguez i tre difensivi. Centrocampo, Singo, Ricci, Lukic e Voivoda. Tre quartisti dietro Brecalo, Pobeca e Brecalo. Scusate, Pobeca e Brecalo, tre quartisti dietro a Belotti. Questa è la formazione che andrà a scendere in campo contro la Lazio. Entriamo davvero adesso ragazzi nel dettaglio di quella che potrebbe essere la chiave tattica di questa partita. Ne abbiamo già parlato ragazzi nel corso di questa settimana, soprattutto in un paio di articoli scritto sul nostro sito, che vi ricordo essere, abbiamo aperto da pochissimi giorni, www.canaleforzalazio.com. Entriamo nel vivo di questo match, che vi ricordo che stasera seguiremo a partire dalle 20.30, in diretta sul nostro canale YouTube Forza Lazio. Allora, cosa può creare qualche problema alla Lazio? Questi giocatori qua, secondo me. Questi sono, sto parlando chiaramente di Pobeca e Brecalo. Perché? Uno, Pobeca è giocatore molto, molto temibile, innanzitutto nei discorsi degli inseramenti, nei colpi di testa, soprattutto sui calci da fermo. E questa è una. Mentre Brecalo, tra l'altro giocatore che è stato accostato alla Lazio, è un giocatore che è molto puntaluomo ed è molto bravo e abile ad inserirsi tra le linee. Quindi di questo, soprattutto, dobbiamo stare molto, molto, molto attenti. Ma soprattutto, ragazzi, perché, secondo me, il pericolo principale della Lazio può arrivare da qui? Perché Pobeca e, da una parte, e Brecalo dall'altra, a parte uno fisico e l'altro molto dinamico, quindi si compensano molto bene, sono giocatori che la storia di questo campionato della Lazio insegna possono dare molto fastidio dove? Quando vanno ad incunearsi qua, in queste posizioni qua. Posizioni che devono chiamare in gioco Luisa Alberto da una parte e Milinkovic dall'altra. Pobeca e Brecalo sono giocatori, quindi i famosi trequartisti, dietro la punta, che vanno a dare, ad incunearsi in queste zone qua, che vi sto evidenziando, e queste zone possono mandare in difficoltà quello che è il nostro terzetto di centrocampo. Questo, secondo me, è la chiave tattica più delicata per quanto riguarda la lettura dal punto di vista della Lazio. C'è anche un altro aspetto che dobbiamo andare ad esaminare assolutamente con massima attenzione, ossia il reparto mediano del Torino, che è un reparto mediano, in realtà, questo, parliamoci cari, è un 3-5-2 molto ben nascosto, perché in realtà qua abbiamo un 5-3-2, come potete vedere abbiamo Boivoda e Singo dall'altra, che sì, è vero, Singo soprattutto è di spinta, ma questi in realtà sono i 5 di difesa, con Singo che è abilitato a spingere, Boivoda un po' di meno, perché deve dedicarsi soprattutto alla fase difensiva. Questo cosa vuol dire che il Torino potrebbe, in fase difensiva, difendere con i tre già fatti, più Boivoda, che scala da una parte quando Singo spinge dall'altra, oppure viceversa, possiamo trovare che Singo arretra a comporre quindi questo quartetto difensivo per dare più possibilità a Boivoda di offendere. Questo chiaramente dipende dal punto, dal punto in cui si sviluppa l'azione, se da una parte o se dall'altra. Ma attenzione anche a un altro tipo di chiave di lettura, perché, come detto, il centrocampo del Torino è composto a quattro. Questo vuol dire che potremmo andare in difficoltà e in inferiorità numerica nel confronto tra i due reparti mediani. Ma aggiungo di più, considerando che l'Eva è un giocatore che tendenzialmente, perché è sempre molto attento a tenere le famose distanze, tende a stare un qualche metro dietro la linea composta da Luisa Alberto e Milinkovic, e diventa a questo punto fondamentale fondamentale per la Lazio che Zaccagni da una parte e Felipe Anderson, non alternandosi, ma costantemente entrambi, vadano a rafforzare la linea mediana con l'Eva che scala dietro, Luisa Alberto che si accentra un po' di qua e Milinkovic che si accentra un po' di qua. In questo punto, paradossalmente, facendo questo tipo di gioco paradossalmente di movimenti, in fase difensiva alla Lazio, ma soprattutto in fase di rapporto tra le due linee mediane, che cosa fa? Si ritroverebbe con Zaccagni, Luisa Alberto, Leiva, Milinkovic e Felipe Anderson, quindi cinque giocatori contro, come vi ho detto, i quattro del Torino. Attenzione, perché questa è una chiave tattica molto, molto, molto delicata e da prendere in considerazione. Chiaramente Belotti sarà preso al 99% in marcatura da Cerbi, non essendoci Luisa Felipe Ramos, altrimenti sarebbe stato il contrario. Ripeto, Bregalo e Pobega rappresentano la parte tattica della quale dobbiamo stare più attenti in assoluto in questa delicatissima partita contro il Torino. del Torino. Bene, penso di aver detto tutto in questo video, ditemi un po' la vostra, cosa ne pensate nei commenti, io vi mando un caro abbraccio e vi rinnovo ancora l'appuntamento a questa sera, ve lo ripeto, 20 e 30 è rigorosa diretta sul nostro canale YouTube Forza Lazio per vivere insieme le emozioni di questa attesissima partita che per la Lazio vale davvero tanto, tanto, tanto. Buon proseguimento di giornata a tutti voi e a stasera. Forza Lazio